Bentornato a Francesco Macri e un grazie a Giovanni Grazzini per aver messo a disposizione la propria professionalità con competenze e discrezione, garantendo così alla provincia di Arezzo di continuare ad essere rappresentata in estra in un momento di straordinaria difficoltà. A dirlo è Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo, con una nota ufficiale che dà così il bentornato in estra a Francesco Macri. Questa scelta, detto Ghinelli, alla luce della conclusione del procedimento giudiziario, Francesco Macri è stato assolto, era nelle cose e il voto dell'Assemblea di Coingas lo ha opportunamente evidenziato. È stato un percorso molto duro, soprattutto perché nel mio caso ho contrassegnato da riservo, silenzio e rispetto per l'attività della magistratura e dei giudici. Ho visto un po' dall'esterno tutto il processo, durante tutto il percorso si è ridotto all'osso, a poca cosa, il mio coinvolgimento e la conclusione è stata, come doveva essere, positiva, quindi assoluzione assolutamente piena. Io ho fatto anche, credo bene, il mio lavoro in una fase diversa e quindi sono molto contento, soddisfatto e questa soluzione comunque non ti ripaga fino in fondo dei danni subiti, però sono contento, però pensando ad altri che possono subire cose peggiori, come dire, non mi voglio lamentare più di tanto. Allora, questo rientro in estra, ovviamente non con la carica in questo caso da Presidente, ma come rappresentante, ecco, della comunità retina. Per adesso si parla di una designazione, poi è chiaro che il socio retino, che ringrazio, sia nella componente amministrativa dei sindaci che hanno contribuito a designarmi, primis Alessandro Ghinelli, ma tutti gli altri del centro-destra, ringrazio anche per l'astenzione comunque benevola dei sindaci rappresentanti l'area del centro-sinistra. È un ruolo importante, sono designato, chiaramente Arezzo andrà al tavolo dei soci per richiedere nuovamente la presidenza, che è il ruolo che sicuramente ci compete, perché deve ritornare Arezzo a contare in una grande azienda che ha sicuramente bisogno di essere rilanciata, che ha vissuto un periodo particolarmente complicato in un contesto energetico e sociale che è pesato moltissimo alle famiglie, quindi c'è tanto lavoro da fare per rilanciare l'azienda, per rilanciarla nel territorio soprattutto sul rinnovato rapporto di prossimità. Dobbiamo rilanciare un ruolo sociale, stare vicino ai territori, sostenendo politiche culturali, sociali, sportive, ma soprattutto i cittadini che non possono più permettersi queste bollette così elevate. L'unico giudizio che pende è quello amministrativo del Consiglio di Stato, come potrebbe influire nel destino di Estra? Per quanto riguarda la mia nomina è assolutamente superato, perché già Anac quando mi ha fatto decadere aveva dichiarato legittima la prima nomina del 2016, quindi avevo già maturato quel cosiddetto raffreddamento di alcuni mesi, poi dopo la decadenza ho maturato, diciamo scontato tra virgolette, l'altro anno e tre mesi che mi mancava, si è concluso il 21 febbraio scorso, quindi io sono assolutamente abilitato da questo punto di vista. Il Consiglio di Stato è rilevante per un'altra questione, non tanto per Macri, ma per il profilo giuridico di Estra, perché dalla sentenza amministrativa emergerà quale è, secondo la giustizia, il profilo giuridico di Estra. Se abbiamo ragione noi, cioè che un'azienda si pubblica nella proprietà, ma non in controllo pubblico dal punto di vista civilistico, vuol dire che potrà continuare a lavorare così come lavora oggi con strumenti dinamici privatistici. Qualora venisse dichiarato il controllo pubblico, si porrebbero rilevanti problematiche dal punto di vista gestionale che potrebbero metterci a rischio nel mercato. Quindi confidiamo che la giustizia amministrativa di Roma, del Consiglio di Stato, faccia la scelta giusta perché potrebbe avere una ripercussione sull'intero indotto delle utilità italiane, lo dico anche da componente nazionale della federazione che la rappresenta.